Nella casa, nuovi confronti. A trent'anni, ma come se ne avesse venite. C'è futuro tra voi? Finché non ammettere a mai di aver sbagliato qualcosa, è impossibile. Mi ha finalmente dato l'ennesimo modo di emettere. Scusate, per me non esiste. E grandi sorprese. Entri nella casa! Entri al televoto. Chi vuoi salvare? GF Deep. Lunedì, prima serata, Canale 5.